Buonasera a tutti cari ascoltatori Meteo e bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. Come avevo già detto nella giornata di oggi, nel primo video della giornata c'era la possibilità di forti temporali al nord. Ed eccoci qua che si sta avverrando, infatti allerte meteo su tutto il Piemonte ma poi anche nel corso delle ore scatterà anche verso l'Emilia Romagna. Infatti come possiamo vedere dal satellite, qua c'è un nucleo temporalesco anche molto forte. Infatti ci aspettiamo che nelle prossime ore questa massa, questa cellula temporalesca si vada a spostare sempre di più verso il nord potendo e forse riuscendo anche a toccare Milano. Temporali che comunque si dovrebbero poi anche andare a espandere verso il sud della Piemonte potrebbero toccare anche l'estremo nord, del nord-ovest dell'Emilia Romagna portando con sé forti precipitazioni. Infatti ci sono già anche dei temporali che si stanno sviluppando, che si stanno anche in questo momento sulle Alpi. Come sempre, ricordiamo sempre di stare molto attenti e come possiate proprio vedere dal grafico si sta andando a spostare sempre di più verso il Piemonte, verso la Lombardia scusate, anche verso un poco l'Emilia Romagna. Allerte meteo che comunque non sono di un colore molto importante, più o meno stiamo parlando di un'allerta gialla quindi un rischio moderato, ma mentre al sud c'è l'allerta rossa per le temperature mentre sul centro dell'Italia non c'è niente sud, come potete vedere, allerta rossa su Sicilia, Calabria, Silicata e Puglia Campania e Molise per quanto riguarda il vento e le temperature mentre Roma, sì, mentre Roma, mentre Lazio, Abruzzo, Marchi, Liguria, Piemonte, Aosta, Lombardia, Bolzano, Veneto e Friuli sono un'allerta gialla per precipitazioni, per temporali e vento. Questo è tutto, un caro assoluto al vostro Meteo Italia e vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi il suo nuovissimo aggiornamento. Grazie